oggi ragazzi pesca diversa e andiamo con il magnete pescare in tutti i modi possibili ci spostiamo un po togliti e togliti d'ho detto tanta roba stavolta andiamo di magnete buona e là buona 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 Niente appifero, indiretta, indirettissima prendeva questo grande vediamo vediamo cosa peschiamo aia, ma perchè strana questa cosa qua, si è incastrato e si vola, altro si meglio grazie 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 grazie